Previsioni per giovedì 20 giugno. Cielo nuvoloso per nubi stratificate e ricche di sabbia sahariana che rendono il cielo di aspetto opaco. Precipitazioni assenti con temperature minime senza variazioni e massime stazionarie. Venti deboli assenti durante le ore notturne, di brezza leggera o tesa nell'arco della giornata. Mare quasi calmo. Grazie per la visione!